dopo aver visto le funzioni base che ci offre il nostro LibreOffice facciamo un saltino da ninja e andiamo a vedere quelle avanzate parliamo ora di uso avanzato di LibreOffice per questo andiamo a vedere il nostro software barra laterale abbiamo visto le proprietà abbiamo visto gli stili andiamo a vedere il navigatore cose mai viste se avete impostato il file nella maniera giusta con gli stili questo vi viene veramente utilissimo perché per file corti non tanto come questo è un file corto ma per tesine veramente lunghe è importante capire dove andare in maniera veloce ecco qua il navigatore non è altro che lo schema del vostro lavoro andate a vedere l'introduzione in testazioni che altro non sono che i temi dell'indice quindi se voglio andare a vedere il capitolo 3 vado direttamente qui clicco due volte e vado direttamente al capitolo 3 eccolo lì posso andare a vedere anche i sottotitoli che sono qui è attaccato però qua ad esempio andiamo a vedere in dettaglio il capitolo 1 le foto sensazionali di Venezia posso andare a vedere anche dov'è il dettaglio cosa importante come gestione è anche quella delle immagini le cornici sono quelle che contornano l'immagine di solito le immagini se andate a vederle eccole qua andiamo all'immagine 3 l'immagine 1 l'immagine 4 che sono messe in ordine di quando si inseriscono se volete andare veramente con ordine vi conviene andare nell'immagine e quando la mettete dentro questa immagine 3 andate qua andate in proprietà andate in opzioni non chiamate l'immagine 3 ma chiamatela Venezia ghiacciata in questo caso qua è una cosa subito che può dare fastidi ma poi vi ritroverete tutti immediatamente le immagini in maniera istantanea allora i collegamenti per i testuali sono quelli che riguardano l'indice e quelli che non hanno niente davanti come questo che ha HTTPS sono quelli che abbiamo citato noi all'interno del nostro file ecco quindi il navigatore come sistema veloce per andare a navigare all'interno di un documento complesso voglio farvi vedere anche altre cosine allora se vogliamo arricchire anche graficamente solo con i pochi strumenti che ha LibreOffice possiamo fare ancora qualcosa andiamo ad esempio qui nel piedi pagina di tutte le pagine in questo caso qua che hanno questo stile di pagina e scusate ecco qua questo stile di pagina che è lo stile predefinito se andiamo qui possiamo creare ad esempio dei piccoli elaborati grafici o dei piccoli disegnini prendo come esempio il cerchio posso fare un cerchio perfetto posso creare anche un altro e creare subito una forma che mi dà tensione che mi rende le pagine un attimo più personalizzate posso fare questo posso fare anche qualcos'altro per dare un senso invece di multimodialità a quella che è la vostra tesina potete fare una cosa del genere ad esempio inserire dei codici QR che portino a delle immagini che portino ai siti di riferimento che portino a delle mappe come si fa vi consiglio un sito è in inglese ma è il migliore gratuito che vi consente di avere i codici QR che necessitano che necessiteremo per rendere multimediale la nostra stampa ad esempio andiamo a vedere quello che era il terzo capitolo gli spinaci contengono tanto ferro era il secondo realtà quindi si parlava di fake news ed educazione fisica andiamo in QR e-kit o meglio QR e-kit come lo chiamano originariamente che è un sito è in inglese ma è facilissimo che vi permette di creare codici QR per qualsiasi roba ad esempio per andare in un sito quello va benissimo per andare addirittura in Google Map in una location Google Map per mandare direttamente un'email se avete una Wi-Fi e potete mettere direttamente un codice che il vostro ospite può in qualche maniera elaborare velocemente per andare nel vostro per loggarsi nel vostro Wi-Fi o anche questo molto bello un ad contact nel senso che vi dà un QR dove chiunque lo guardi lo visualizzi attraverso la fotocamera del proprio cellulare automaticamente viene inserito nome e cognome numero di telefono e tutti i dettagli che volete del vostro del vostro nome del vostro indirizzo o del vostro bigliettino da visita al di là di questo andiamo a vedere la cosa che ci interessa di più andiamo al sito che è questo di Paolo Attivissimo dove gli spinaci e abbiamo visto non contengono tantissimo ferro come si pensa si copia l'URL come si fa? si può aggiungere un tasto ad esempio spinaci e ferro una intestazione possiamo cambiare il colore del testo possiamo andare e questo è importante scegliere il tipo di immagine che ormai è quasi sempre PNG la grandezza è di qui che ha il vantaggio questo sito perché gli altri invece quelli gratuiti sono anche più carini dal punto di vista grafico in realtà vi permettono solo di scaricare delle definizioni molto basse andiamo tipo 500x500 pixel che permette di andare fino a 5 cm per 5 che sono enormi vorrei cambiare anche il codice QR allora questo è il colore proprio della scritta lo aggiungerei qua ma utilizzerei la scritta di colore bianco invece lo sfondino di colore nero fatto questo una volta che ho settato questi due parametri qua faccio il curate che sarebbe create e qua mi viene fuori il nostro codicione che posso fare semplicemente posso salvare semplicemente qui posso scrivere QR non arte ma in questo caso qua posso scrivere educazione fisica lo guardo da lì l'ho salvato torno a bomba nel mio software in LibreOffice Writer e vado ad esempio qui dove c'è la parte finale dell'articolo meglio del capitolo che parla di spinaci qui come sempre vado a inserirmi una fotografia vado qui o vado inserisci immagine è la stessa identica cosa vado in tesina e rimpaginazione immagine dei due e rieducazione fisica la metto lì posso metterlo sicuramente più piccolo perché qui è molto invasivo posso metterlo in qualsiasi posizione in questo caso qua ricordate che potete dare anche le dimensioni dirette perché che riguarda la grandezza secondo me con 1,5 cm per lato può andare volevo mantenere il rapporto dove farlo prima 1,5 anche in altezza gli do l'ok eccolo qui con 1,5 cm si legge bene alla fine avrete che a fin di ogni capitolo potete andare direttamente con il vostro cellulare a vedere l'articolo originale o qualsiasi altra informazione questo perché riguarda alcune delle opzioni avanzate ma adesso parleremo innanzitutto di come salvare o meglio come esportare il nostro file in pdf una volta che abbiamo terminato immaginiamo che sia questo andiamo a farlo facciamo file esporta esporta come nel formato pdf e vi si aprirà questa finestra di dialogo due cose molto veloce cosa vi spiega sono delle sezioni cosa devo esportare tutto il file o una certa pagine ad esempio la pagina 12 fino alla pagina 16 in questo caso no voglio tutto una selezione potete selezionare prima delle pagine e poi dire di fare l'opzione di esportazione qui visualizza pdf dopo esportazione può essere utile adesso che ve lo faccio vedere immagini compressione jpeg va bene qualità 90 riduce la risoluzione dell'immagine a 300 dpi che sarebbe circa quei 100 punti per centimetro che vi ho detto io e va bene perché è inutile avere robe enormi e poi vediamo i tipi di pdf allora il pdf può essere anche ibrido cosa si intende per pdf e ibrido si intende che si salva una copia pdf con all'interno un file di libreoffice di writer ciò vuol dire che se avete sul computer libreoffice vi si apre in versione libreoffice se non avete nulla vi si apre il pdf può essere utile anche perché in questo caso vi si incorporano immagini e font anche questo è un'opzione che alcuni siti richiedono esplicitamente anche alcuni siti di stampa questo è un tipo di pdf che solitamente serve per un tipo di archivio ha delle caratteristiche particolari particolarmente anche questo salva immagini e font all'interno quindi se dovete archiviarlo questo è sicuramente il tipo di pdf più adatto ma sicuramente non vi darà la possibilità che vi dà quello sopra anche qui pdf con tag aggiunta struttura documento potete farlo se vi serve avere una struttura che serva poi per lo sviluppo dello stesso file non lo uso mai crea formulario pdf con campi compilabili se create il pdf per creare dei font dei form scusate come quando dovete compilare dei documenti e volete che l'utente riesca a compilare direttamente nel pdf dovete esportarlo con questa opzione questa crea sicuramente un file un po' più grande però vi dà la possibilità di aggiungere del testo dopo qui come struttura non mi interessa relativamente cosa simpatica è che potete gestire la visualizzazione iniziale con cui il vostro utente aprirà il vostro file ad esempio qui se potete offrirgli con i segnalibri aperto o meno io aprirei solo la pagina che tipo di ingrandimento e che tipo di layout pagina potrebbe essere anche continuo con pagine affiancate o semplicemente il predefinito del computer dell'utente o meglio del lettore pdf l'interfaccia utente anche qua potete far vedere parecchie robettine la cosa simpatica è che potete aprirlo in modalità schermo intero se avete una serie di immagini e basta che volete utilizzare solo come presentazione è inutile che si veda tutta l'interfaccia potete aprirlo in modalità schermo intero e potete nascondere le barre dei menu campi di controlli e robe varie insomma sono tutte robettine carine anche qua perché riguarda poi i collegamenti vanno gestiti in maniera secondo me sempre predefinita potete aggiungere una password in modo che nessuno riesca a aprire il vostro pdf potrebbe anche mettere una password solo perché si apre ma non possa stamparlo o non possa modificarlo lo scegliete voi poi la firma digitale che in questo momento non ci interessa dato tutto questo esportiamo il nostro file decidiamo dove siamo eccolo qui siamo scusate torno su ecco qui tesina e andiamo nell'immaginazione mettiamo qua nel pdf una prova ma è tesina 2 lasciamolo pure lì in teoria dovrebbe aprirsi se voi lo vedete molto ciccione come di solito si apre a me il file ed eccolo qua quindi lo vedete con un'apertura normale andiamo a vederlo invece con qualcosa di più specifico eccoli qua questo è il nostro pdf finale ricordo anche che potete avere una visualizzazione pagina a due a due pagine eccoli però se volete vederla invece questo è acrobat reader il più famoso perché originariamente il pdf è stato sviluppato dall'adobe e se volete vedere questa cosa qua nella visualizzazione pagina dovete vedere mostra copertina allora in questo caso vi apre proprio la visualizzazione libro del vostro l'equivalente del vostro writer eccolo qua quindi questa è la nostra tesina è una tesina fatta in maniera semplice adesso ci servirà solo aggiungere qualcosa di grafico quali una copertina reale più carina e una mappa grafico grafico grafico